Ciao a tutti amici, benvenuti, benvenuti per chi è nuovo oppure bentornati per chi già mi conosce, io mi chiamo Elisabetta e oggi siete qui sul mio canale e come potete vedere questo video ha un format completamente diverso rispetto a tutti gli altri video che io ho già fatto mi trovo infatti in piscina come vi avevo preannunciato già nel video precedente e sono a Barcellona, in realtà non proprio Barcellona ma in un posto vicino che si chiama Loret de Mar e io mi scuso già antecedentemente per tutti i rumori di sottofondo che state sentendo sia adesso e chi sentirete che è più avanti nel video la piscina ha degli orari particolari quindi posso girare solo in determinati orari solitamente appunto come voi ben sapete io sono solita a girare i video smr principalmente di notte o comunque appunto quando i rumori sono praticamente assenti qui non posso farlo anche se sarebbe decisamente meglio e anche forse più carino di fare un video sempre in piscina la sera ma comunque ho deciso di girare questo video perché volevo un po' diciamo portarvi con me in questa vacanza raccontarvi un po' come sta andando fare una specie di piccolo ask anche perché appunto nel video precedente vi avevo chiesto di farmi un po' di domande alle quali avrei risposto in piscina in modalità ASMR le domande che mi avete fatto me le sono segnate tutte quindi direi che sono pronta per rispondere siamo decollati più o meno intorno alle 9.30 e siamo arrivati all'aeroporto di Barcellona per le 11 appena siamo atterrati abbiamo fatto un giro in una delle vie principali di Barcellona perché volevamo appunto dare un'occhiata e comunque comprare anche qualcosa e abbiamo pranzato lì e poi abbiamo preso una specie di treno, navetta che ci portassi appunto in questa località vicino Barcellona che si chiama Loret de Mar allora Loret de Mar a me piace davvero tantissimo perché non saprei come spiegarvele è un po' come se fosse una Los Angeles solo più piccola cioè appena voi imboccate la strada principale di Loret de Mar vi trovate in una via che non è praticamente infinita come quella di Los Angeles ma è molto grande dove è pieno di discoteche, di bar è veramente pieno di locali di qualunque tipo e le discoteche tra l'altro non sono assolutamente come quelle italiane cioè non hanno proprio a che fare con le discoteche italiane sono proprio più belle esteticamente sia fuori che dentro poi sono frequentate da un sacco di gente che sia del posto o meno anche perché la maggior parte di persone che si trovano a Loret de Mar in questo momento sono principalmente persone appunto non del posto come tanti italiani, tanti francesi, tanti inglesi quindi sì, è un posto molto molto frequentato perché è un'ottima meta turistica essendo anche vicino a Barcellona ci siamo poi sistemati dopo appunto essere arrivati qui con il treno navetta ci siamo sistemati in questo alloggio che ha anche la piscina dove appunto io ho deciso di fare il video siamo al primo piano la casa non è bellissima ma è minimalista nel senso che all'interno di essa cioè ci sono tutte quelle cose che servirebbero teoricamente per vivere una settimana all'interno di questa casa quindi diciamo che ci stiamo trovando particolarmente bene poi fortunatamente c'è anche l'aria condizionata dentro quindi perfetto e niente sì, io mi sto divertendo molto qui è molto bello appunto i locali sono molto belli sono già stata in una delle discoteche che tra l'altro compiva 50 anni quest'anno qui e questo è il braccialetto dell'entrata qui la discoteca infatti si chiamava Dropix e questo qui è il braccialetto per entrare per farvi vedere veramente carino a me piace tantissimo lo terrò come ricordo sicuramente e finché non si staccherà lo terrò al polso e poi appunto in questi giorni abbiamo anche avuto la possibilità di frequentare le spiagge e di andare al mare e il mare è molto molto bello rimarremo qui all'Ore de Mar fino a domenino pomeriggio faremo gli ultimi giri guarderemo le ultime cose e poi prenderemo il Flix Plus per tornare a c'è l'uomo comunque direi appunto che adesso possiamo iniziare con le domande ed il video ask allora la prima domanda è perché ti piace così tanto il mondo dell'ASMR e per quale motivo hai iniziato a fare i video ASMR allora questa è una domanda molto frequente che mi avete fatto in tanti alla quale ho anche risposto in un video mi sa che fu quello del McBank mentre stavo mangiando il bokeh che tra l'altro ho visto che mi è piaciuto tanto 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 quindi pensavo di rifarne un altro simile magari mangiando non so del sushi qualcosa di instagrammabile comunque chiamiamolo così datemi qualche idea comunque qua sotto io ho scoperto l'ASMR più o meno 4 anni fa e tra i consigliati mi è apparso un video di Chiara ASMR era un roleplay mi ricordo e lo guardai e mi addormentai e da lì rimasi un po' scioccata diciamo perché non pensavo che dei video che sembrava una cosa molto banale no non avrei mai pensato che un video invece mi avrebbe potuto far rilassare così tanto questo è il motivo per il quale il giorno dopo e il giorno dopo ancora ho continuato a guardare video di questo tipo e mi addormentavo sempre quindi diciamo che i miei problemi di insonnia stavano terminando per quanto riguarda appunto la continuazione della domanda ovvero per chi o per che cosa ho iniziato io ho deciso di iniziare né per hobby né per una questione economica anzi perché io avevo un'idea molto precaria relativa appunto al guadagno su youtube non pensavo che nel caso avessi pubblicato dei video avrei potuto avere un determinato guadagno anzi e ho iniziato perché appunto io mi ero trovata così bene con questa tipologia di video qua con il mondo appunto dell'asmr e ho pensato perché io Elisabetta non posso fare del bene alle altre persone proponendo dei video simili a quelli che comunque girano in rete insomma voglio anche io fare del bene per le persone e quindi sostanzialmente ho iniziato così e a me piace molto mi piace davvero tanto mi piace sia registrare e anche se è molto difficile perché ad esempio il video che sto facendo in questo momento lo avrei voluto fare in modo diverso lo avrei voluto fare ad orari diversi mi dispiace anche tantissimo che voi stiate ascoltando diciamo i rumori di sottofondo come le macchine o magari le persone che parlano e urlano mi dispiace molto che voi diciamo stiate ascoltando questi rumori qua avrei voluto fare questo video diciamo un po' diversamente ma non ho la possibilità questa è la cosa più grande che posso offrirvi qui però appunto spero che comunque il video vi piace che sia di forse aggradimento quindi passiamo alla seconda domanda quale lavoro ti piacerebbe fare in futuro anche a questa domanda mi pare di avere già risposto ma comunque risponderò di nuovo ho sempre voluto studiare medicina il crucio è che medicina comunque lo vorrei accantonare perché oltre ad essere abbastanza sognatrice cerco di essere molto realista e non so se riuscirei ad affrontare diciamo altri otto anni di studio perché appunto per avere la laurea in medicina bisognerà studiare un tot più o meno due anni e anche lì perché nel caso se io non dovessi riuscire a superare tutti gli esami diciamo che avrei gli anni da otto andrebbero pian piano ad aumentare non è una cosa che voglio rischiare quindi pensavo magari di buttarmi su una laurea triennale come potrebbe essere criminologia perché criminologia tra l'altro la si può fare studiando o legge o sempre medicina oppure psicologia quindi insomma criminologia sicuramente tra i primi posti e poi abbiamo design navale che non so se avete potuto notare ma sono tre cose tutte completamente diverse e appunto design navale mi ispira molto perché io ho sempre desiderato anche allacciarmi in qualche modo al mondo della moda però appunto essendo anche abbastanza realista mi sono resa conto che per cercare di entrare nel mondo della moda oltre che ad essere bravi e io ad esempio non lo so disegnare cioè non saprei disegnare un vestito fatto bene come potrebbero farlo altre ragazze della mia età se non più piccole però comunque è un mondo che mi affascina tantissimo quindi ho pensato di conciliare la moda con un qualcosa di più non dico semplice ma attraverso il quale potrei avere più spocchi e tra l'altro a Genova c'è uno dei bordi più importanti d'Italia quindi ho pensato perché non fare design navale queste appunto erano le mie tre idee riguardo cosa fare dopo la maturità che avrò a giugno il 2023 e se proprio devo essere onesta non sono assolutamente spaventata anzi non vedo l'ora di farla di togliermela non vedo l'ora terza domanda il posto più bello che hai visitato finora allora il posto più bello che hai visitato finora sicuramente l'ora di mar non nego che ho visitato tantissimi altri posti molto belli ad esempio io credo che Roma può sembrare banale ma io credo che Roma sia uno dei posti più belli al mondo c'è un sacco di cultura c'è un sacco di storia di architettura c'è veramente tutto tra l'altro cose che mi piacciono cose che studio un altro posto che ancora in realtà non ho visitato però credo sia meraviglioso a Parigi io non vedo l'ora di andare a Parigi e prima o poi ci andrò e farò anche un bel video riguardo la mia permanenza lì aspettate però mi raccomando passiamo alla domanda numero 4 qual è il tuo colore preferito allora il mio colore preferito è sicuramente questo qua scusate sono ancora una bambina però mi piace molto anche il nero un colore molto felice sicuramente sì concordo con voi no vabbè comunque a parte degli scherzi mi piacciono tantissimo il rosa perché proprio mi piace come tonalità di colore poi mi piace molto il nero soprattutto per quanto riguarda il vestiario perché lo trovo molto 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 facile da abbinare però ultimamente c'è un colore che proprio mi fa mi piace davvero tantissimo lo intosso molto spesso e sto praticamente comprando vestiti solo di questo colore qui è tipo il colore non so come si chiami comunque è questo colore qui esattamente questo colore qui mi piace davvero ragazzi tantissimo davvero troppo domanda numero 5 pratichi qualche sport se sì quale allora io in realtà sono fermata due anni a questa parte quindi non faccio sport però ne ho provati davvero tanti ma davvero tanti tanti da piccola ad esempio ho iniziato a 5 anni facendo equitazione che ho lasciato a 10 anni perché mi sono trasferita in un altro paese quando sono andata al maneggio per la lezione prova mi sono sentita veramente oltraggiata credo sia stato il momento in cui io mi sono interfacciata per la prima volta nel mondo dei grandi perché sin da quando appunto avevo iniziato ero legata ma davvero tantissimo alla mia istruttrice che appunto mi seguiva prima a Roma quando appunto poi ho cambiato un posto dove vivevo perché appunto come sapete già molto bene mio papà era un ufficiale di Marina quindi si spostava molto spesso siamo appunto andati in Francia ho fatto la lezione prova e diciamo che l'istruttrice dato che aveva molte più persone durante un'ora rispetto al maneggio che frequentavo precedentemente ci trattava non so tutti come se fossimo tutti uguali cosa giustissima però io all'epoca c'era rimasta davvero tanto male perché non mi sentivo più la coca diciamo dell'istruttrice e non mi sentivo considerata non mi sentivo parte integrante diciamo del nostro rapporto perché sin da quando ho iniziato la mia prima istruttrice mi aveva mi ha sempre accompagnato io andavo ad equitazione tre volte alla settimana era il mio momento di svago il momento in cui io potevo stare con la mia amica che era 30 anni più grande di me perché era la mia istruttrice però le volevo veramente un bene infinito poi ho fatto nuoto ho fatto danza sia classica che ritmica che hip hop ho fatto anche ginastica artistica tennis pallavolo e basta direi però comunque ho fatto un po' di sport allora la sesta domanda è come sarebbe il tuo giorno perfetto descrivilo allora il mio giorno perfetto sarebbe il seguente mi piacerebbe svegliarmi e fare colazione che è la parte più importante della giornata per me magari con un croissant 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 con della frutta magari delle fragole e dei verdilli ce lo vedo ce lo vedo e poi il latte poi dopo aver fatto colazione mi piacerebbe andare in piscina passerei il mio giorno in piscina quindi sostanzialmente punterei ad abbronzarmi totalmente tutto il giorno che è una cosa che adoro fare veramente arrivare a fine giornata con le guance rosse la pelle che brucia è una cosa che mi piace tantissimo non so perché poi dopo la piscina mi piacerebbe tantissimo vestirmi farmi una toccetta e andare a fare shopping di pomeriggio ma è proprio la mia giornata perfetta è ideale sarebbe così e dopo lo shopping farei un'altra toccia e mi preparerei mi farei bella per andare in un locale la sera questa è la mia giornata perfetta già sarebbe proprio la mia giornata perfetta e sì voglio sapere anch'io quale sarebbe nel caso per voi la giornata ideale fatemelo sapere la settima domanda è hai dei sogni nel cassetto che vorresti realizzare allora io ne ho ho due sogni due sogni nel cassetto che vorrei realizzare il primo è essere indipendente ma sia economicamente che mentalmente fisicamente proprio da qualunque cosa da chiunque e il secondo sogno nel cassetto che avrei è quello di non essere essere una madre diversa rispetto a quella che ho avuto io perché io ho sofferto tanto con mia mamma la maggior parte di voi sa il motivo sa tutti i motivi vorrei io credo che nel caso mi dovessi rendere conto un giorno di trattare mia figlia come mia madre trattava me credo che molto probabilmente mi farei punire aspramente perché nessuno merita di soffrire o di essere soprattutto trattata senza rispetto come se fosse una persona chiunque perché il rispetto reciproco la gentilezza sono alla base di qualunque rapporto tra madre e figlia tra ragazzo e ragazza e anche tra amico e amiche il rispetto è fondamentale senza di quello non si va da nessuna parte quindi sì questi sono i miei due sogni nel cassetto sono un po' umili forse però sono queste le cose che io punterei a realizzare nella mia vita l'ottava domanda è preferisci l'estate o l'inverno allora questa è una domanda particolarmente complicata perché come detto prima mi piace molto stare al sole praticamente la mia giornata perfetta sarebbe passarla al sole per poi diventare un pomodoro a fine giornata ma con l'estate in generale appunto mi piace anche perché c'è il mare non c'è la scuola non ci sono compiti almeno per ora poi so che nel caso dovessi mai frequentare l'università sarebbe totalmente diverso perché bisognerebbe studiare anche d'estate quindi sì sicuramente sì però d'altro canto io adoro l'inverno adoro l'inverno perché mi piace un sacco l'idea di poter stare sul divano con la copertina stare al caldo bere le tisane bere il latte caldo può sembrare strano ma troppo anche un non so che di speciale è bello nello svegliarsi presto la mattina cioè io quando mi sveglio prendo la scuola e mi preparo a me come momento della giornata forse è uno dei miei preferiti quindi mi piace sia l'estate che l'inverno alla nona domanda che mi pongono è stai felice allora premetto che voglio ringraziare la persona che mi ha fatto questa domanda perché preoccuparsi per le altre persone è veramente una cosa molto bella e da apprezzare quindi io ti ringrazio per esserti preoccupato di me e per avermi chiesto se effettivamente appunto sono felice o no cosa mi fa stare bene o cosa mi fa stare male allora io sono felice in realtà sotto tanti aspetti per tante cose perché pian piano diciamo da due anni a questa parte la mia vita è migliorata moltissimo quindi sono molto felice rispetto a come sicuramente potevo esserlo due anni fa però allo stesso tempo sono anche triste perché diciamo io credo personalmente di avere avuto delle mancanze particolari mancanze che non puoi colmare dall'oggi al domani mancanze che non puoi colmare neanche diciamo affiancandoti ad una persona perché comunque l'affetto di un genitore che sia l'affetto della mamma o l'affetto del papà è una tipologia di amore e di affetto che non potrà darti nessun altro secondo me nel caso sarebbe una specie di elemento che ti crei tu nel corso del tempo e deciderai poi di darlo ai tuoi futuri figli o alle future persone che ti saranno vicino e chiamerai totalmente con tutta te stessa la penso così quindi sì sono felice però c'è ancora tanto che devo migliorare in me stessa passiamo all'ultima domanda che è la decima mi chiedono in quale posto sogneresti di vivere allora io prima antecedentemente vi ho parlato di Parigi e Parigi rimarrà comunque sempre una delle mie mete in cui appunto vorrò andare però non credo per vivere quanto più invece per visitarla perché comunque c'è da dire che Parigi è una città molto costosa quindi sì come anche tantissime altre città in cui invece vorrei andare a vivere lo so però se proprio appunto devo rispondere a questa domanda io direi in California in America la California mi ispira così tanto che voi non avete idea ma davvero tanto oppure mi piacerebbe molto vivere a Londra anche lì sembra un posto molto caro però non so Parigi la vedo più un po' come una meta turistica come un posto da visitare se sei in vacanza non credo che riuscirei a viverci però visitarla mi piacerebbe tantissimo bene amici il video è giunto al termine io spero vivamente che vi sia piaciuto e nel caso fosse così impegato di lasciare un pollice in su perché aiutate me il canale e appunto tutta la community e niente mi scuso nuovamente per tutti i rumori di sottofondo che avete potuto sentire sapete benissimo che avrei voluto fare diversamente però appunto non ho potuto io vi auguro di passare e spero che voi possiate passare un buon fine settimana in famiglia oppure con le persone che sono a più più care e spero che voi possiate divertirvi e continuare a passare una bella estate vi mando un grande bacio e vi auguro il meglio